Sono nella vallata del Sestaione, che è un fiumiciato, posto di ristoro, come vedete ci sono delle panchine predisposte, c'è una vegetazione di abeti, pluri centenari, possiamo vedere. La guardia forestale ha predisposto questo posto per l'utilizzo da parte dei gitanti, quella che vedete è una capanna per modo di dire.